Le mie impressioni sono estremamente positive perché ho trovato un livello di coinvolgimento nella legalità e nel rapporto con la Costituzione che non mi aspettavo e devo dire che in certi momenti ho avuto l'impressione di trovarmi in una delle nostre consuete sedi di relazioni in cui gli interlocutori fossero altri giudici o professori e non invece dei ragazzi che hanno fatto delle domande per le quali non sempre avevo risposte adeguate all'acutezza della domanda stessa. Quindi in sintesi impressione ottima e che mi induce un cauto ottimismo sul nostro futuro se i giovani sono tutti a livello di quelli che abbiamo incontrato stamattina sia a Perugia sia a te.